la Juve in golf l'ospite a sorpresa questa sigletta ospite a sorpresa non l'avevo ancora sentita Fabio Germani ti senti un po' ospite a sorpresa? ospite a sorpresa si di lusso no dai come di lusso no? Scusa ieri hai messo in piedi una serata mai vista con mezza squadra l'allenatore un sacco di persone una cena meravigliosa scusa vabbè io credo che quella di Benevello rimanga nella storia però in effetti quella di Benevello quel povero del neri che però era ancora l'allenatore della Juve tutti a cantare Antonio Conte rimarrà nella storia però più o meno già era scritta Fabio Germani allora ieri sera Pino Torinese per gli amici che ascoltano la Juve in golf che sono lontani e quindi non hanno potuto partecipare e venire e non sanno magari dell'iniziativa sei riuscito ancora una volta a organizzare ma veramente ti faccio i complimenti perché quando ti muovi tu le cose sono proprio ad hoc una grandissima serata perché c'erano Quagliarella Matri Vucinic Storari De Ceglie Del Piero Conte insomma mancava solo che portare Giuliani Vabbè Giuliani era il contorno mancava solo che portavi il Presidente Agnelli e poi era tutto posto era tutto finito No Diciamo che abbiamo Diciamo che la festa di ieri sera era la festa dei due club della Curva Sud quindi effettivamente era è il il tifo organizzato della Juventus che l'ha festeggiato prima di Natale con chi voleva partecipare alla cena questa cena insomma e quindi è stato carino da parte di Juventus accettare accettare così diciamo con questi giocappari molto importanti averne avuto sette sicuramente è stato un risultato importante è stata una bella cena in un bel ristorante molto grosso e ci siamo divertiti tutti la mucca pazza a Pino Torinese dove tra l'altro ho scoperto che è un discoteca no a parte che quello non lo sapevo perché io ormai sono vecchio però mi ha raccontato appunto che era una discoteca abbastanza in diciamo del Torinese no ho scoperto invece che fanno il giro pizza quello da 10 euro cioè finché non dici niente mangi come un maiano è vero è vero e quindi ci torna capite vabbè tu mi interessa che andiamo in cena esatto te la facciamo fuori tutta senti Fabio tu forse non ti sei reso conto ieri perché ovviamente avete avuto un grande affare c'era giustamente tantissimi tifosi che volevano venire a fare le foto gli autografi quindi insomma anche l'organizzazione è importante in queste serate e poi difficoltosa e occorre del lavoro per starci dietro e quindi magari ti sono sfuggiti dei piccoli particolari che invece io che non avevo niente da fare ho notato tipo ti sei reso conto che hai messo a mangiare seduti vicino Conte e Del Piero sì li ho messi a posto ma ti sei reso conto che per tutta la serata ridevano scherzavano guardavano si davano alle patti onestamente hanno giocato insieme sono due bandiere della Juventus hanno sia uno che l'altro secondo me dei grandi meriti per quello che è la Juventus adesso perché anche se Alessandro sta giocando poco quest'anno si può dire veramente che sono d'accordo con l'affermazione che dice lui anche se non gioco mi sento sempre il capitano di questa squadra quest'anno più che mai è quello che ha aiutato ad Antonio a fare gruppo a ricostruire quello che è il DNA Juventus e secondo me posso dirti una cosa io io cercherei insieme alla Juventus di trovare un accordo e di prolungare questa questa amore che dura per 19 anni perché sai che nonostante è dato per scontato lo stesso Chiellini oggi ha una domanda rispondendo ha detto sì è l'ultimo anno di Alessandro che però è il nostro capitano quindi siamo con lui eccetera però tutti sanno che è l'ultimo anno lui compreso però inizia a farsi strada tra i tifosi della Juventus ma sta cosa l'ho un po' sudorata anch'io metti che le cose vadano bene e ci siamo capiti cosa vuol dire andare bene non è che non è che possono cambiare l'idea Agnelli del Piero e dargli la possibilità l'anno prossimo insomma di festeggiare anche un po' di centri io credo che l'unica cosa che abbia bloccato questo contratto sia comunque la Juve l'intenzione di Alessandro di giocare c'è ancora e se la Juve non gli dà questa possibilità andrà a giocare da qualche altra parte sicuramente non è più un giocatore che ha i 90 minuti o che ha i 45 minuti però secondo me è una persona è un giocatore fondamentale che ha fatto la storia della Juve io parlando parecchie volte con Antonio Conte Antonio mi diceva che Alessandro è stato fondamentale quest'anno nello spogliatoio che poi come dicevi tu lo possa vedere di più o di meno in campo come dicevi ieri hanno scherzato e riso tutta la 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 no perché sai sembra una banalità non uno diceva per forza sono a cena aver seduto vicino no ma non è vero perché c'è un giocatore come Del Piero come può essere Buffone e tanti altri del loro livello ha una forte importanza nello spogliatoio nella storia di questa squadra e negli anni scorsi probabilmente qualcosa non ha funzionato neanche da quel punto di vista non è un caso che quest'anno con Conte che ha ridato lucidità dinamismo entusiasmo a tutti i giocatori della Juve ci sono giocatori come Peppe che sono diventati incredibilmente forti rispetto all'anno precedente oppure che lo stesso Buffon sia tornato ai suoi livelli e che Del Piero stia come dicevi tu aiutando l'allenatore non penso sia un caso no non lo è è una cosa che secondo me è una cosa che inizia da quando Antonio da ritiro dove fanno questo patto tra virgolette dei vecchi più che mai Buffon e Del Piero con Antonio Conte perché questi due personaggi perché sono i due emblemi della Juve quelli che sono stati in serie B quelli che conoscono la Juve Vera quella che hanno anche giocato con lui e hanno fatto questo patto di ferro che sta portando questi risultati perché come ho sentito prima dire a Marchisio è vero stiamo tutti calmi a dire quella parola anzi non la pronunciamola nemmeno perché tocchiamo ferro tutto quello che vuoi però intanto la Juventus in 14 o 15 partite quante siano ha dimostrato di essere una squadra forte di avere un equilibrio di avere beccato determinate scelte di mercato perché comunque Vidal ce l'abbiamo noi Pirlo ce l'abbiamo noi e che comunque se l'equilibrio tiene se la forma tiene noi quest'anno veramente possiamo ambire a qualcosa di importante senti tu che sei molto vicino tra l'altro ad Antonio Conte pensi che andando avanti è così cioè ce lo troviamo che non parla e scrive alla fine dell'anno cioè senza più voce per mesi può uscire da questo da questo stress che si carica no 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 perché tu lo vedi anche tu è veramente il dodicesimo giocatore in campo è veramente un io guarda facciamo 13 perché il 12 siete voi come dice sempre lui però allora lui è l'undicesimo aggiunto ok no è è uno spettacolo vederlo è uno spettacolo vederlo esultare per la Juve è uno spettacolo vedere quando un giocatore si mangia un gol e le facce che ha e quella è è la dimostrazione di quanto veramente sia Juventino quel ragazzo lì e secondo me è un predestinato perché è andato ha chiuso la sua carriera poteva giocare ancora ha vinto tanto con la Juve conosce benissimo quello che è il DNA della Juve sono di famiglia tutti i juventini e tornare nello stadio nuovo con